Covid-19, nessun contagio nelle ultime 24 ore, solo 2 i ricoverati in provincia. Resta quindi a 3 il numero dei positivi in tutta la provincia di Caltanissetta, dati fino ad oggi stazionari. 192 contagiati dall'inizio della pandemia, 169 i guariti da Covid-19 nell'intera provincia nissena. Dal 24 aprile non si sono più registrati i decessi che ammontano a 13 casi, chiusa dal 3 maggio terapia intensiva data di dimissione dell'ultimo paziente.